Questo non è un semplice supermercato. Ogni giorno ritrovi freschezza, qualità e i sapori genuini di una volta. Conad, persone oltre le cose. È Mario Senatore, il vincitore del contest fotografico Coloriamo Cava, concorso indetto dal Forum dei Giovani di Cava dei Tirreni e che grazie anche al supporto dell'assessorato alle politiche giovanili retto da Paola Moschillo, è ormai diventato una realtà consolidata. Sul territorio metelliano, un'iniziativa che ha visto la partecipazione di tanti giovani alle prese con l'inquadratura perfetta, che più racchiudesse l'essenza e la bellezza della città. Votati tramite le piattaforme social e dopo l'attenta analisi di una commissione ad hoc, gli scatti più belli sono stati di Gennaro Paiara, che ha conquistato il terzo posto, Tecla Apicella, che si è giudicata il secondo posto, e quello del vincitore assoluto Mario Senatore, premiato con un utile buono Amazon. La mia idea era quella di fare una foto diversa da quella che ho visto già nei social e volevo avere una ripresa diversa e se sto scattando sul corso mi è venuta questa idea di riprendere il centro del nostro corso, ma riprendendo anche le luci dei portici. C'è stata una bella risposta da parte dei Giovani Cavesi, tante sono state le adesioni a questo concorso e diciamo che uno dei punti principali del programma che stiamo cercando di portare avanti noi consiglio direttivo capitanato da Benitoventre è quello appunto di valorizzare e di dare visibilità alle varie passioni e ai varie artisti Cavesi che abbiamo nella nostra città. Oltre al contesto fotografico, tante sono le iniziative in cantiere firmate dal presidente del forum Benitoventre e dall'intero direttivo. Progetti da fare sono tanti, stiamo già preparando diversi contesti musicali, diverse presentazioni di varie attività, ampliare soprattutto lo spazio dedicato ai giorni. Abbiamo iniziato con i lavori dell'ultima parte che ancora non avevamo potuto effettuare per carenza di fondi. A breve faremo diverse collaborazioni con alcune associazioni come Amnesty dove spiegheremo quelle che sono le attività che vengono effettuate sia sul territorio nazionale che internazionale, la difesa dei diritti umani e tutto ciò che poi si occupa Amnesty International. Poi stiamo già organizzando insieme alle altre associazioni uno spazio per i ragazzi per poterli far suonare e registrare in diretta, contest abbiamo detto, presentazione di libri e poi l'attività più importante che è quella del quotidiano, quella di dare uno spazio quotidiano ai ragazzi di venire qua, che non è un'attività mai definita però poter dire ragazzi noi siamo qua, siamo aperti per voi tutti i giorni per qualsiasi esigenza è sempre una cosa importante, è quella più difficile ma che ci fa più onore come gruppo di ragazzi, è tutto il consiglio direttivo con tutti i soci.